benvenuti nel canale di giocosta buona attenzione che ci sono giocazioni nuove di fortuna siiii fortuniii ragazzi chi ha calcamato al 118? io eh? eh? bens ma che cosa? what the fa? siamo tutti fatti yeee 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 ora voi non vi siete guardati ma sono un gallo che balla oh shiiiit ah quando giocosta si mette a scrivere la porco di quel anzi no porca di quelle a voi manz eccomi qua sono giocosta eccomi qua sono giocosta eccomi qua sono giocosta eccomi qua sono giocosta non vi siete guardati oื o WYG o WYG o WYG no raga ma se vi portassi un video dove faccio una finta vittoria reale no ma non si può fare così ah ok trovo l'hanno ruotato che culo perchè io non ho armi perchè ovviamente perchè ho dovuto male armi no? eh 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 ancora abbia fatto più ok ma ho detto ma avevo trovato la fermi purta eh si infatti sono fatto come hai fatti eh ma come cazzo oh ma ma sei malato? ok ma sei malato ma sei malato non morite va oh cazzo oh cazzo ma quanto c'è scelato? cazzo cazzo laga? come cazzo eh 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 come sta cosa eh 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 ah qua va bene va bene cosa è successo non lo so ah cazzo ma ancora? mi sono fatto un fulltivo praticamente va bene va bene va bene va bene va bene va bene raga ah mi sono fatto un fulltivo ok vabbè dai vabbè dai dettagli ah ancora mi metto a dire parolacce raga basta va bene va bene va bene ok aiuto aiuto ahia siamo morti dentro ieri perché siamo tutti bene ma non come il gioco sta che ah si mette la su posta poi arriva poi arriva già il direttore che diventa un milione poi arriva il il kimotto e si mangia pur e fa le adizioni che vado ugualzano con otto oh my god ecco tempo mmm mmm io non ho più paura in realtà gli airplane fanno cagare perchè non avete capito raga no tipo pre a quanto pare l'ho sferato raga a quanto pare però aaaah la seconda guerra mondiale che cazzo di problem ma magari tu non saresti qui se magari fossi veduto qui non le non 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 è vero, non è vero oh WTF Va bene raga, tutto fatto Sono in un video, bella ciao Sono in un video, ok Capisti, mia lingua tu Tu avrei capito, ok Penso di averne capito, pensi che l'hai capita Vero Mia lingua, capire Oppure No Com'è sta roba Eh eh, fa col tempo? Eh eh Ma raga siamo in un video, è tutto, su, subito Vai Sta succedendo così in fretta Tutto, tutto sta succedendo, vabbè Vai andiamo Sono tutti morti Sono l'unico super Perché dovevi essere io l'unico sfigato A essere super vissuto Vabbè, pazienza Andiamo super vissuti noi e giochiamo Dai Vai andiamo in santi Vai Sfigati Oh capito Sfigati C'è un aereo Ah no perché quando ci so io Sì ma Aspettate Semi safe no? Sì Praticamente Vieni qua safe Che Che mi stai salvando la finta Dov'è che mi cecchino no? Eh vabbè Cos'è la seconda guerra mondiale? Così sono? Ma quanti sono? Io sto sentendo la fine del La fine delle cicchinate Però Oh basta Ecco Anche io mi sono messo Scusate E muori Eh no Ah L'ho sciurato E' un po' che qua l'ho sciurato Oh ma credo sono malati Guarda l'ho sciurato Guarda l'ho sciurato Non so Scusate Scusate Quanti sono? Non ho sentito tutto Io senti Questi Questi Cicchini Qua Aspetta Ma questi Tre Cicchini Come L'altro E' un po' che ti postavo fare Non è vero Ma non c'era scritto Ma non c'era scritto Bologna Tма Quanti Pag L Airport Irrò Bologna 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 X en Bologna Bologna Grazie a tutti.